ciao eccoci qua in un nuovo video per il canale agenzia amore ricordo di mettere un bel like a questo video iscriviti al canale se vuoi seguirmi nei prossimi video non perdere le novità clicca il pulsante iscriviti ci metti proprio un secondo in questo video parliamo perché agenzia amore l'unica agenzia matrimoniale con 50 consulenti ma senza un ufficio questo piano di sviluppo di agenzia amore ha fatto sì che oramai in tutte le regioni italiane ma anche in spagna russia e nord europa ci siano consulenti pronti ad assistere ed iscrivere single nessuno lavoro con un ufficio e neppure l'azienda agenzia amore connection singles possiede nessun ufficio operativo in italia in quanto inutile non previsto per il sistema di vendita proposto e costoso poi ai fini del consumatore finale il quale si troverebbe sicuramente a pagare di più però il fatto che non abbiamo un ufficio fisico non deve assolutamente spaventare nessuno in fondo guarda il lavoro che facciamo immagina che sei in un bar e vedi una donna bella a 10 metri da te ma non hai il coraggio di presentarti ecco il nostro lavoro è proprio quello di presentarti una donna senza che tu debba aprire la bocca prima e per farlo non serve un ufficio ma una consulenza a distanza e uno scambio di numeri telefonici adesso è chiaro spero che sono state chiare adesso vi saluto lasciate magari un commento sotto a questo video ciao e ci vediamo nei prossimi video